Ciao, io sono Michele e faccio parte del progetto Vedi Napoli e poi i Torni. In sostanza diamo indicazioni ai turisti per la città, quindi per le strade più famose, per i musei, per le chiese e c'è una grande affluenza. Da Reggio Calabria. Adesso ho visto su internet questo posto inaugurato da poco e ho fatto tutto per venirci. E' sempre affascinante. E' la provincia di Genova, Liguria. Mi è piaciuta Napoli e sono tornata volentieri. Adesso è il primo giorno che siamo qua, quindi siamo in visita, adesso decidiamo. Abbiamo visto il castello e poi Piazza Plebiscito, adesso facciamo un giro Spacca a Napoli. Rimini. In realtà per me è stata una sorpresa. Oggi dovevo essere ad Atene, invece mi ritrovo a Napoli. Dai a vederlo con le amiche è ancora più bello, quindi molto, molto, molto. Allora, diciamo che esatto, il mondo è napoletano, ci ispirava, riusciamo a fare scherzi, giochi. I napoletani sono pezzi di cuore. Musica. Pezzi di cuore. Sì, sono il primo giorno in Napoli. Tutti, i bambini, le persone, tutto, tutto. C'è la città, molto buona città, la pizza, la pizza napoletana. Buongiorno, sono di Toronto, Canada. Sto qui in vacanza, Napoli incredibile. Allora, noi siamo itineranti del comune di Napoli per questo progetto e alla fine diamo informazione ai turisti, principalmente, quello è il nostro compito. La maggior parte dei turisti che vengono sono tutti francesi e spagnoli, quindi sono una maggioranza di turisti stranieri. Milano. Sì. Napoli. Mi piace. Molto. Colpito di. E tutto, un po' un casinara. Abbiamo già visto ieri Pompei e gli scavi, tutto uguale, è bellissimo. Oggi siamo venuti qui, bello, veramente molto bello. C'è il c'è del talento. Siamo venuti qui a Napoli, ieri abbiamo visitato Pompei, gli scavi di Pompei. Oggi siamo qui a Napoli, abbiamo visitato Spacca Napoli, siamo stati in Napoli Sotterranea, stupendo, bellissimo. Sì, sono Napoli, non mi fa more, non mi ho vinto, non mi fa male. Sì, sono stati in Napoli, non mi fa male.